Ritornare qui in mezzo a voi. Davvero? Avete peccato? Sì. Gloria a Dio. Ciao, amore mio. Come mai? Mi avete dimenticato? Come mai? Come mai? No, sto insieme del nostro cuore. Ah, gloria a Dio, gloria a Dio. Ma voi lo sapete che io ho pregato sempre per voi, ogni sera, ogni giorno? Sì. Sì, perché la pace di Dio c'è sempre in mezzo a noi, fratelli. Sì, ma io ho pregato sempre, ogni giorno. Tu sei scritto qua, guardate. Tu sei scritto qua. Vanno esprimendosi e voi vi esprimete il pensiero. Ecco, Luigi e Teresa, guardate. Guardate, guardate, guardate. Dovete dire quel pensiero, guardate. Perché quando si congiungono tutte e due dita, lo vedi, Luigi e Teresa, lo vedi? Un blusso, guardate, 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 guardate. Sì. Guardatela qua, guardate. Forse lo vedete all'incontrario, dai. Lo vedete all'incontrario. Questo è un peccato. Lo vedi adesso? Sì, lo vedo, fratello, lo vedo, lo vedo. E ogni giorno sei nei video che sempre parlo in preghiera per te. Avete peccato. Sempre. Io non mi dimentico mai i miei fratelli. Mai. E Dio sia testimone. Ora. Gloria a Dio. Cambiatelo questo pensiero. Gloria al Signore. Mentre si sta facendo questo pensiero. Stiamo per andare in onda. La pace, la pace, Gesù la portate qui sulla terra per portare una buona misericordia a tutti noi. Gloria a Dio. Alleluia. Speranza, aiuti personali e interpersonali. No, fratello, fratello. Sì. Fratello, non possiamo dire alleluia. No. No, perché siamo nel tempo di Pasqua. No, perché siamo nel tempo di Pasqua. Queste due cose. Come? Come nel tempo di Pasqua? Ho tenuto la potenza. La pelle.